Ma intanto sentiamo la reazione del nostro direttore Piero Valesio nel suo Killer Point. Mai come oggi Edgar Foster Wallace avrebbe gioito. Dentro di lui, certamente, ma anche al di fuori di lui. Forse avrebbe fatto un balzo sulla sedia come milioni di persone in tutto il mondo hanno fatto. Oggi più o meno all'ora di pananza. Avrebbe gioito il saggista e scrittore che ha inventato il concetto stesso di Roger Federer come esperienza religiosa? Perché la sua idea oggi ha trovato una manifestazione, un'epifania come mai era successo nella vita del grande Svizzero. Perché la vittoria su Nadal non è stata soltanto un grande successo sportivo. E i due non hanno dato vita soltanto ad una partita indimenticabile. Ma il modo in cui Federer ha vinto, in cui è rimasto in campo, in cui ha risposto agli attacchi dell'avversario come mai gli era successo in carriera, nel modo con cui ha espresso dei vincenti di rovescio o in cui ha retto lo scambio sulla diagonale di rovescio come mai era successo, ecco questo ha rasentato davvero l'esperienza religiosa. laddove per esperienza religiosa si intende il modo e la possibilità di andare oltre i propri limiti, di giocare le proprie speranze e di vederle concretizzate così, d'amblè, sotto i tuoi occhi. È stata una grande giornata per tutti noi, non soltanto per Roger. E soprattutto è stata non la fine di una storia, ma l'inizio di una storia che durerà fino alla fine dell'anno. Meraviglioso, che dite? Meraviglioso, che dite?